Ok ragazzi faccio questo annuncio, piccolo annuncio, lo pubblicherò sia sul canale principale che sul secondo canale Vi dico che abbiamo un nostro server discord, abbiamo aperto un server discord Ah in realtà questo server discord è ancora una beta Ci saranno fatte alcune modifiche, aggiunti nuovi canali Non si sa come fare, ci prepareremo Però a parte questo, oggi pomeriggio credo sì alle 16 Saremo in live e siete tutti invitati perché noi saremo in live per parlare con voi su discord Quindi chi vuole partecipare nella chat generale fa pure Vi lascio ragazzi, ciao ciao